ora mister romolo toni e mister dopo l'esperienza negativa di carpi insomma in cui non è andata come forse tu ci aspettavi questa nuova avventura lentigione una società altrettanto importanti con i biotini importanti è una società come sta facendo degli ultimi anni che fa le cose per bene ci permettono di lavorare in modo equilibrato ci danno tutte le situabilità possibili per fare il nostro lavoro l'accoglienza che è stata fatta il primo giorno è molto bella ci fa stare serenente fa un lavoro importante di dare continuità a quello che si sta facendo negli anni ecco senti molti si chiedono questo lentigione è cambiato dal mister molti i giocatori sono andati via ecco come giudichi la squadra che è stata costruita che probabilmente a cui anche tu avrai contribuito la squadra è stata rinnovata però è stata rinnovata giocatori importanti che sono disponibili al lavoro hanno le loro potenzialità e noi stiamo cercando di fare il nostro lavoro per fare esprimere il loro valore in modo possibile ecco in molti la domanda che si pongono in molti il lentigione sarà capace di fare quello che ha fatto ma l'anno scorso mi sembra che ha fatto qualcosa di grandioso però comunque molti si chiedono se rivedremo lo stesso lentigione con lo stesso spirito io lo so che molti si chiedono questa cosa se noi capiamo e ci fissiamo solo sul risultato negli ultimi due anni includo anche due anni fa e non ci fissiamo perché sono arrivati quei risultati è un problema però diventa produttivo se capiamo che i risultati che hanno aggiunto gli ultimi anni è frutto di un lavoro fatto bene di impegno e di equilibrio